per cercare fortuna. Nel 1967 si è spostato a Basilea. Lì, grazie al suo cognato e emigrato a sua volta, ha trovato lavoro come moratore. Nel giugno del 1968 conosce mia madre, si sposa ed entrambi decidono di ritornare a Basilea per lavorare. Mentre mio padre ha continuato a lavorare come moratore, mia madre ha trovato impiego come domestica in una famiglia a Svizzera. Nell'agosto del 1969 sono nata io, non potendosi occupare di me, dato che lavoravano la maggior parte del tempo, i 10 genitori a 40 giorni decidono di affidarmi al mio nonna Padrella, che mi veniva in Italia. Del primo anno di vita ricordo poco. Grazie anche ai racconti che mi hanno riportato, ho in testa con chiarezza che vedevo i miei genitori annotati in Pasqua e nelle vacanze estive. Quindi ero più affezionata mia nonna rispetto di loro. Credo di aver compreso di avere una mamma e un papà quando circa due anni e mezzo sono venuti a prendermi, insieme a mio fratello, di stare con loro in Svizzera. Nella Svizzera ricordo la casa in cui vivevamo, il burgiallo che ci portavano da sera e al mattino presto e gli amici italiani di Cosone con i quali trascorrevamo il weekend. Ricordo l'asilo che frequentavo. Eramo tutti i bambini italiani. Parlavano italiano e di conseguenza non ho avuto la possibilità di imparare la lingua locale, che forse, possendo di poli, mi sarebbe potuta tornare utile negli anni avanti. Da piccoli i miei disagi si manifestavano attraverso un sonno agitato. Il mio carattere era spesso nervioso, perché in qualche modo voleva farla pagare i miei genitori, in averci abbandonati, sopra tutta mia madre, anche se, pensandoci a posteriore, era me la prima a sentirsi colpa. Verso i 5 anni i miei genitori, visto che ero prossimo a cominciare la scuola elementare, hanno deciso di rientrare definitivamente in Italia. L'entrata in Italia ho frequentato per qualche mese la scuola materna a Rodetta, poi la scuola primaria a Cosone e di nuovo le famiglia a Rodetta. Alle medie ho avuto le prime difficoltà a inserirmi in una classe di ragazzi, che erano cresciuti insieme in Italia. Anche se sono stati sempre gentili ed appoglienti, ho comunque faticato a sentirmi parte del gruppo. Credo che il fatto di essere stata lasciata da piccola dai miei genitori sia stato un motivo di lavoro personale, introspettivo, riflessivo che, in più momenti, ho dovuto affrontare. Per anni, soprattutto da mamma e in parte nell'adolescenza, durante le vacanze volevo stare da mia nonna. Credo inoltre che la mia esperienza abbia influito sul fatto di avere figli, volendo ricrescere con una mamma e un papà presenti, potendo sempre contare sull'aiuto dei nonni. Ora che sono adulta e non più i miei genitori, capisco che tutto ciò che hanno fatto è stato per darci un futuro migliore, offrendoci l'opportunità di poter studiare, cosa di cui solo ora vi ringrazio.